musica 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 bene a tutti ragazzi xper 96 qui per voi bentornati su TheWarnUpPower prenditi tighiotta guarda la barra rossa oggi siamo su un giochino che è vende viene venduto anche su PS4 no anche 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 niente praticamente io l'ho visto da GameStory ah da GameStory questi praticamente qual'è lo scopo di questo gioco? arrivare in fondo al livello niente di più facile con le sfide che ci sono ehi ecco cerchete di arrivare in fondo al livello magari addirittura arrivare in fondo al livello che ci ha fatto si potrebbe aumentare se non lo vedremo poi aggiungere a 30 frame quello che loro vedranno registrato in fondo al livello in fondo al livello non si possono usare un video di riferimento oh e noi stiamo arrivando ma non guarda 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 ah ah c'è nel culo c'è nel culo attenzione questo è il culo ah oh l'hanno buttato fuori si perché sei senza pietà vabbè attenzione ti chiedi non ero nella lista esatto scusi iniziamo a fare quelle che non ho mai fatto favorire che ha patente e libretti no ah ci vuole patente e libretti esatto è zitto tra l'altro uno percorsi di filosofia storie e temi di iniziamo aspettate qua si vedono le sfide tipo immetti elettricità nell'acqua rimane fulminato ah ma che schifo fantascolo capovolta e mozzafiato e banchi nella pollute esegni una corsa prima di errori con la banchi si è da saltare oh ce l'ha mai andare avanti o devo finire di che di libero e legge va bene oh super eh beh sai che se c'è la cosa che io posso mai nella vita eh si sulle pareti verticali certo certo viva la fisica picchia e qui ci voglio eh 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 Wallah, che fiozza! OH MY GOD! OH MY GOD! E se non avete visto che era controllo? Ma che lei sono un genere di... Ma poi queste qui non hai neanche in basso Non lo sappiamo Sì Crash! Gameplay su PS4 lo sa Una volta l'avevo messo sotto dietro Ma ragazzi, se sentite qui E' una cosa L'aventura del type monster Che sta riduzendo praticamente la casa E' quasi Al campo magnetico Degl'Xbox One qua Sì Ma c'è una seconda scheda video di Xbox One? Sì sì Due volte Perché una Lievita Capovolta è mega sbalordibile Vai avanti, non ce ne frega un cazzo delle sfide Sì Aspetta perchè di solito indietro c'è sempre qualcosa C'è l'aster egg Non lo so, io vedi si può sapere C'è l'aster egg Ma tipo c'è il gira... C'è tipo... Un giro subito C'è Samanta Ovviamente C'è sempre S.P.A.G.E. S.P.A.G.E. Oh mio Dio... Che cura di merda io... Ma lo scuro... Eh sì... Eh il lupino... Eh il lupino non è vero! Eh... però... Ahahahahah... Dai ma... ma non è vero! Ma non è vero! Ma non è vero! Dio! Oh mio Dio! Io direi che è un tempo più bello più bello! Sì! Ah lo faccio bene! WOOOOO! S.P.A.G.E. Eh io... io... io die! No 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 die! Super! S.P.A.G.E. 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 Io direi che... Noi ci salutiamo! Grazie per averci seguito! Lasciate un link! S.P.A.G.E. 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 S.P.A.G.E.